Buongiorno e bentrovati con questa nostra nuova edizione del nostro videogiornale. Vediamo insieme le principali notizie di oggi, Drangheta Boschi a San Luca, il sottosegretario inaugura il campo di calcio, lo Stato è presente, le istituzioni ci sono qui a San Luca e ovunque, non ci sono territori in cui lo Stato rinuncia ad esserci, a combattere una battaglia di legalità contro la Drangheta, una battaglia che insieme possiamo vincere. Ed è questo il senso della nostra presenza qui. A dirlo il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, al suo arrivo a San Luca dove stamani è in programma all'inaugurazione del nuovo campo di calcio del Paese con una partita tra la nazionale cantante e quella dei magistrati. Oggi diciamo, aggiunto la Boschi, che è un campo di calcio, lo sport, possono essere un modo per superare pregiudizi e discriminazioni ed anche per costruire una società in cui prevalga la legalità sulla criminalità e la parità dei diritti. In campo per il futuro, quindi oggi a San Luca, una giornata importante per ribadire il concetto di legalità. Alla giornata, presente il Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio, in contribuzione con il CSM, con la Prefettura di Reggio di Calabria, il Provedorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Calabria e di Sicilia e il Mondo della Scuola. La radio partner di questa storica giornata insieme contro le mafie è RDS che supporterà attivamente tutta l'iniziativa. Hanno aderito alla giornata per testimoniare con no all'andrangheta e ad ogni forma di criminalità organizzata anche il CONI e la nazionale italiana Cantanti per lanciare ancora una volta un segnale forte e una grande testimonianza da San Luca partecipando insieme alla ristrutturazione dello stadio comunale ripatutamente oggetto di danneggiamenti. Il programma prevede il convegno della magistratura nella scuola di San Luca al quale parteciperanno numerose autorità, istituzioni, personaggi della cultura e dello sport nazionale coinvolgendo tutti i ragazzi del pianeta scuola della regione Calabria. A termine la nazionale magistrati e la nazionale cantanti scenderanno in campo allo stadio comunale di San Luca. Andiamo a Cosenza. Cosenza, uomo in auto fermato dalla Guardia di Finanza, confesse di aver ingerito diversi ovuli per il trasporto di eroine. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza lo hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacente e hanno sequestrato oltre 60 grammi di eroina. L'uomo è stato firmato nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Cosenza a bordo di un'autovettura proveniente dal Casa Ertano che percorreva il tragitto di rientro in città a velocità sostenuta. Da seguito di un'ispezione del mezzo con l'ausilio delle unità cinofili ha segnalato a quel punto di aver ingerito sostanza stupefacente ed è stato in merito accompagnato all'ospedale dell'Annunziata. All'interno del suo organismo c'erano diversi ovuli imbottiti di 60 grammi di eroina con i quali sperava di realizzare oltre 300 dosi che gli avrebbero fruttato guadagni per oltre 16.000 euro. L'uomo è stato arrestato e ora rischia la pena della reclusione da un minimo di 6 a un massimo di 20 anni. Andiamo a Nicotera, profanato il santuario di San Francesco, atto sacrilego a Nicotera. Persone non identificate hanno profanato appunto il santuario di San Francesco di Paola mandando in frantumi la vetrata posta all'altezza dell'altare e devastando alcuni oggetti sacri che sono stati rotti e gettati all'interno della navata. E' stato profanato anche il tabernacolo dei Santissimi e le ostie ingettate a terra. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri. Passiamo a Bovalino. Bovalino è pronto ad andare a Sanremo ma gli bruciano l'auto. Ed era pronto per mostrare le sue qualità a canone Costantino Scaglione, un cantante dell'Accademia Musicale ABC di Bovalino, che ieri sera a termine delle prove del suo repertorio di Modugno da presentare al teatro Ariston ha invece trovato la sua auto distrutta da un incendio doloso appiccato da qualche delinquente evidentemente inserzionato a rovinargli questo bel momento. Reggio di Calabrio invece, una notizia di cronaca, continua senza soluzione di continuità, il controllo del territorio da parte dei carabinieri sull'intera provincia ha intensificato anche per contrasto l'attività di controllo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Appositi servizi volti a bloccare il flusso di questo spazio sono in atto anche nella città di Reggio di Calabria. In questa ottica i carabinieri, diretti dal tenente Alessandro Bui, attraverso il monitoraggio costante dei quartieri più sensibili, al fenomeno dello spaccio attraverso l'attuazione di costanti servizi di pattugliamento e posti di controllo della mattinata di ieri 20 aprile 2017 agli ordini del maresciallo Andrea Romano hanno tratto in arresto per coltivazione spaccio di sostanze stupefacenti Fabio Minutolo, 27enne Regino, nota le forze dell'ordine per reati inerenti alle sostanze stupefacenti. I militari nel corso di un attento controllo nel quartiere Modena a seguito di una perquisizione in una abitazione hanno rinvenuto 20 piante di marijuana per un peso complessivo di 171 grammi e dopo aver esteso il controllo anche alla cantina del Minutolo rinvenivano all'interno della cassetta della conduttura idrica che due involuichi termosaldati contenendo ulteriormente altri 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'ennesima operazione messa a segno quindi dai carabinieri che testimonia ancora una volta la capillare presenza dello Stato sull'interiore metropolitana intesa al controllo del territorio, alla prevenzione e al contrasto alla detenzione spaccio di ogni tipo di sostanza stupefacente. Ancora una notizia di cronaca, questa volta a Gioia Tauro è stato arrestato un bracciante agricolo di 21 anni nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla compagnia di Gioia Tauro diretta dal tenente Gabriele Lombardi. I calabinieri della locale stazione hanno arrestato in fraganza di reato un bracciante agricolo di 21 anni perché si è reso responsabile del reato di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo clandestine di ricettazione. La brillante operazione che ha portato all'arresto del giovane incensurato è il frutto di una preliminare strategia operativa ed informativa elaborata dalla stazione Carabinieri di Gioia Tauro che attraverso un'attenta analisi delle dinamiche del territorio censisce quotidianamente le aree più sensibili della giurisdizione. Quindi hanno perquisito i calabinieri diversi obiettivi di interesse operativo riuscendo ad arrivare nella giornata di ieri nell'abitazione del giovane abitazione situata in un territorio, quello degli stradoni al confine tra i comuni di Gioia Tauro e quelle di Rossano. I calabinieri all'interno di un fusto hanno rinvenuto abilmente avvolti in pellicola di plastica, una mitragliatrice simile a quella d'introduzione alle forze di polizia marca Beretta Parabellum con particola funzionante relativo caricatore, una pistola calibro 9 e una pistola marca Taurus, tutto in perfetto stato di conservazione completamente lubrificata e pronta quindi per l'uso. L'arrestato, ultimata le formalità di rito, è stato associato alla Casa Ciccontrera di Palmi su disposizione del PM di turno presso la locale procura della Repubblica in attesa del giudizio di convalida. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e dei cacciatori di Calabria conferma anche qui ancora una volta la pervasiva presenza delle forze dell'ordine e delle istituzioni generali nel delicato territorio della piana di Gioia Tauro. Da sempre feudo il contrastato delle più potenti cosche di Indrangheta. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vediamo appuntamento alle prossime edizioni. Buona giornata. Grazie a tutti.